È una vergogna, è una vergogna soltanto vedere come è salita sul palco della Leopolda che io, che non ho l'idea politica loro, sono entrata nella Leopolda con tanto di pass, quando il signore mi ha dato il pass mi ha detto signora se vuole non è obbligatorio però può dare un contributo, ci ha fatto e non era neanche tanto volontario gli ho detto. Sono entrata dentro, era una vergogna, ballavano, cantavano, c'era catering, c'era un pelliccio, c'era 40 gradi di caldo, quando le famiglie non hanno soldi e tengono il discaldamento spento perché non hanno soldi per pagare le bollette. Questa è la Leopolda di Renzi, io sono fiorentina e mi vergogno di Renzi, è scappato da dietro la Leopolda, noi lo aspettavamo davanti, è scappato da una strada sterrata attraverso una caserma di rietro e è uscito dalle cascine. Questo è Renzi, per chi gli ha dato il voto, è un giullare, bravo, è un giullare, lui gli piace solo stare su un palco e far sapraudire, non sa altro, quando c'è dalle Valle Castagne dal Fuoco lui si ne avvista, mette la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Renzi vai a casa, noi non ti vogliamo, chiaro?